ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e come potete vedere ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta premier league 2023 le carte plus in questo video andiamo ad aprirci ben tre multipack quindi sono sei carte in edizione limitata la nostra caccia agli autografi è aperta continua finora non abbiamo trovato ancora nulla di molto interessante sei sterline ogni multipack quindi abbiamo 18 sterline di pacchetti da aprire sono circa 23 24 euro prima di partire però con l'unboxing io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like a questo video detto questo iniziamo a spacchettare questi multipack andiamo ad aprirceli e poi ci apriamo rapidamente i pacchetti perché il nostro obiettivo è andare ad aprire i pacchetti con all'interno le limited edition siamo pronti con il primo multipack recuperiamo i pacchetti limited edition li mettiamo da parte e iniziamo subito a spacchettare su questi pacchetti penso che andremo abbastanza veloce perché sono carte più o meno base allora niente di interessante nel primo andiamo a recuperare tutti così facciamo spazio continuiamo allora abbiamo carte base lo stemma e newcastle se sarà a spillichetta anthony e in che età per l'arsenal pacchetto numero 3 io sono ancora alla ricerca del primo golden baller marfi fans favorite e lissandro martinez niente bonasu pacchetto numero 4 carte base abbiamo la tatan di senesi ramsdale poi paligna niente da fare altri due pacchetti no è l'ultimo questo è l'ultimo perché l'altro è dell'altro multipack abbiamo viera o questa è bella o lise wing wizard zin 5 o carvaglio rising star quanto mi piacciono queste rising star sono veramente molto belle e a termine altre due carte base ma abbiamo trovato bruno fernandez ma non ci interessa andiamoci a liberare queste altre carte altri cinque pacchetti da andarci ad aprire insieme allora vediamo un po qui che cosa troviamo vorrei portare a casa un golden baller allora niente titan granaccio altra rising star veramente molto interessante garnaccio la rising star del manchester e niente niente di interessante secondo pacchetto michel kufal ancora capitano coleman ho trovato una carta ultimate declan rice declan rice le carte ultime hanno la stessa rarità delle golden baller solo che ne sono 9 quindi alla fine sono 12 carte rare da trovare e questa è la mia terza ultimate declan rice mamma mia bellissima bellissima carta quindi abbiamo trovato qualcosa di buono in questo multipack continuiamo con che adams ti antonio duco re ait nuri e gomez trovata la carta ultimate credo che con questo multipack non possiamo sperare di trovare nient'altro pacchettino numero 4 abbiamo carte base tarkovski per l'everton one to watch è la prima one to watch che trovo e harvey barnes guardate qui davvero molto bella a kanji e rida a terminare il pacchetto ultimo pacchetto per questo multipack abbiamo fabiansky west emma il capitano dell'essere evans una titan magic boot e za bisuma e botman a terminare sei carte per ogni pacchetto ultimo multipack liberiamo le nostre carte limited che apriremo alla fine e mettiamo via i nostri cinque pacchettini allora iniziamo cinque pacchetti da aprire prima di passare alle limited abbiamo carte base carte base stemma del liverpool odegaard con a te o già luca scamacca bella questa versione base andiamo avanti dai dai un bel golden baller abbiamo carte base culo seschi ma non ci credo ancora la racing star di alvarez ne ho trovate 33 incredibile ma che sfiga pacchetto numero 3 alcantara doppia doppia a sonville dopo one to watch mateos nuñez ancora una carta molto bella vi vedere la rarità delle one to watch sono sono carte abbastanza rare una ogni 10,5 pacchetti così come le goal machine quindi molto bene ci sono carte difficili da trovare one to watch le goal machine e ovviamente oltre alle ultimate e alle golden baller assist king carta base carta base ultimo pacchetto e poi passiamo alle limited abbiamo carta base wing wizard e nato stemma del burnemouth yates amarty e basunu al southampton quindi abbiamo aperto ben 15 pacchetti abbiamo trovato una bella carta ultimate di day clan rice che certo non è per niente male a questo punto direi di passare ai nostri sei pacchettini con le limited edition anzi se ne possono trovare 20 diverse di limited edition e 10 di queste sono carte in versione autografata con l'autografo stampate e altre sei hanno l'autografo originale allora iniziamo con un centrocampista è un centrocampista del wolves ed è ruben neves ruben neves mettiamo da parte perché mi manca quindi iniziamo bene almeno almeno è una carta che mi manca continuiamo con la seconda limited dai che troviamo anche una bella carta autografata bra non ci credo ancora ancora il giapponese mitoma non ci credo è la terza volta che lo trovo e non è nemmeno autografata quindi è un gran bel doppione inutile lester lester mi sa che mi manca andiamo a vedere chi è e soprattutto andiamo a sperare in una carta autografata no dasbury hall kieran dasbury hall per il lester terza carta limited edition ne mancano tre forza cerchiamo di portare a casa questa autografata south hampton anche qui mi sembra che non ce l'ho non ce l'ho una limited del south hampton andiamo a vedere ed è lianco lianco vecchia conoscenza anche del campionato italiano lianco south hampton niente autografo però mi manca continuiamo intanto altro pacchettino e questo la stavo per rompere aston villa aston villa portiere mi manca e aston villa attenzione attenzione ed emiliano martinez emiliano martinez peccato perché di questa carta c'è anche la versione autografata con l'autografo stampato peccato questa poteva essere molto interessante ragazzi ultimo pacchetto per le nostre speranze potrebbero infrangersi qui in questo pacchetto oppure andarci bene manchester united la carta limited mi manca sicuramente vediamo se alla fine abbiamo trovato la carta autografata allora iniziamo da sotto e langa ed è abbiamo trovato l'autografo e langa signature alla fine ma è arrivata finalmente eccola qui che bellezza ragazzi che bellezza ci ha fatto aspettare ben sei pacchetti tre multi pack ma alla fine è arrivato l'autografo stampato ma sempre un gran bell'autografo di e langa molto ma molto bene ragazzi che carta abbiamo trovato un autografo e anche una bella carta ultimate di the clan rice termina con questo video ragazzi possiamo essere soddisfatti abbiamo trovato una carta limited edition autografata ed è e langa del manchester united quindi molto bene in questo video e come sempre ragazzi prima di salutarvi io vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto attivare la campanella e soprattutto lasciate un bel like a questo video con tutte queste carte della raccolta adrenalin premier league plus 2023 è tutto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao